Le Miss che si sono già aggiudicate un passaggio alla finalissima del nostro concorso che si svolgerà alla fine dell'anno. Io vado a chiamarle perché le vedo qui in postazione, tutte pronte. Allora, signore e signori, vado a presentarvele. Vedo già in pole position. Catalina Giorgescu. Simona Omodei. Mara Pollonini. Giovanna Guagnardito. E Rosi Pucci. Eccole qui, loro sono qui, sono splendide. Allora, ci state qui tutte sulla pedana? Che dire? Cinque bellissime Miss. Allora, io giro un attimo le spalle. Abbiamo tutte, tutte finaliste. Loro sono le finaliste. Abbiamo Rosi Pucci nella categoria curvi. Abbiamo la prima classificata in categoria silver. Giovanna Guagnardito. Io scendo perché tolgo la bellezza. Adesso però ci sono le casse che pischiano. Mi metto di qui. Proviamoci di qui. Dopodiché abbiamo Simona Omodeo. Omodei. Amodeo. Scusa, ho sbagliato. Simona. Lei è prima classificata nella categoria gold. Abbiamo Catalina Giorgescu. Anche lei, prima classificata, finalista, sempre nella categoria gold. e abbiamo Mara Pollonini, prima classificata, categoria diamond. Adesso vado a spiegarvi queste categorie. Noi abbiamo quattro categorie nel nostro concorso. la categoria silver che appartiene a quelle miss dai...